ciao a tutti sono appena partito con l'ultimo video dovrebbe essere vediamo se 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 volevo dire se deve essere aggiornato anche lui sicuro però intanto vado qui a prendere gli snack allora sono senza difesa proprio niente ok allora intanto me li devo prendere per forza qualcuna ok bene ah il giubbotto me lo do da dentro bene 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 usciamo andiamo in questo magazzino vediamo che è l'ultimo non è più segnato aspetta e riguardiamo la mappa ecco lì i dollari con lì dei dollari andiamo lì a vedere un attimo forse magari l'ho fatto già però non credo qui non è aggiornato infatti è fermo il computer è qui vediamo se ha bisogno anche lui altri milioni vedi e questo è l'ultimo migliora attrezzatura 880 mila madonna quanti milioni personale 273 e infatti già i soldi mi sembra che stanno salendo no c'ero io che sono anche stanco mettiamoci tutto ok adesso rubo qualche scorta un pochettino non c'ero ma no è pazzesco così lontano allora vediamo che cosa posso usare di mezzi per darmi velocità perché io qui qui non va bene così aspetta un secondo mi è venuta un'idea l'unica soluzione c'ho questa per il momento poi io velocizza e me lo metti è così lontano che qua c'era l'ospedale ma porco cane io dico sta rockstar veramente fa delle cose che non le ha fatte secondo me roba tutta veloce per velocizzare ma non è accurata non ha ha fatto delle cose giuste belle però non accurate cioè se ne fregata non c'errò 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 Grazie a tutti. Mi ha detto di avvicinarmi che me la danno in un piatto d'argento, vediamo. Ah, acquisisci, ostia, ostia. Ah, sì, sì, è vero. Non c'è spazio qui, non c'è spazio. Non ho spazio. Forse è qui, appena appena. Mi tira anche fuori. Porca cazzo, sono uscito normale, guarda dove, in momenti mi sta, mi uccidono questi qui. Forse è qui. A quest'ora non c'è nessuno. Pavel è arrivato, a dirmi che posso fare un altro colpo, però lo faccio domani perché sono spazio. Io mi sto finendo questo, e poi domani, guarda quanto tempo va, che ritardi che ha. Acquisisci un livello di sospetto. A trovare qualcuno, prima. Andiamo sulla strada, eh. E prendiamo... Eccoli qua, poi ci sono due, guarda. Ecco, ne ho acquisiti anche due, no, 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 no. Cosa c'è che inciana fa qua? Ah, mantieni il livello, dice. Ok. Cosa c'è che inciana fa? 2 è morto. Ma io vi faccio saltare tutti, ti faccio prima. Ecco, è un polizziato. Ehm... Ehm... Cosa c'è? Quasi tutti simili in tutti i magazzini, c'è la moto C'è ancora stelle Ok, via libera Quanta strada ha adesso? 5 minuti 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 6 minuti 6 minuti Grazie a tutti. 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 Ne faccio tre o quattro, non di più. Ecco, quando si riempie la terza tacca... 146.000 dollari se ne sono andate dentro lì adesso... Si, ne faccio questa e un'altra e basta. E così finisco il video e poi dopo... Un'altra e un'altra... Vediamo dove è questo posto... Vicino, meno male, meno male che fa... E che cavolo... Io ho preso i magazzini più costosi... Un'altra e un'altra... 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 scendi, scendi giù da questa moto scendi giù scendi giù da questa moto se non scoppia tutto qua un momento, un momento eh si eh queste erano tutte benzina dentro guarda che casino ok aspetta un secondo voglio vedere per terra che mi possono servire questi snack eh si eh mi ricarico ok via 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 ma che maso no capo tic no no arrivano meno male che il furgone è chiuso dietro arriva il capo tutti al lavoro è già piena la barra vediamo guardate qui va bene vediamo l'ultima qui qui si riempie di più però faccio l'ultima e così ho finito rifornisci 15.000 quindi una roba piccola ed è pieno boh io voglio recuperare ai soldi o spesa voglio proprio vedere un po' Grazie a tutti Walker Logistic Mai sentito Mi sa che dentro lì Cos'è qua? A posto siamo A posto Vedi quei tizi Ce l'hanno La roba Da fare in fretta Vediamo se gli ammazzo Che succede No no c'è un mezzo Mi sembra Mi sembra c'è un mezzo E infatti c'è un C'è il mezzo Dice di prendere il furgone Già è quello E con questo ho finito E con questo ho finito Oh no Grazie. Grazie. Ok, l'ho finito. Con questo è pieno, basta. Basta, va bene così secondo me. Basta, basta, basta. Stop, stop. Ok, allora il video si conclude qui. Sì, quando ho le scorte e mi dicono che posso andare, inizio a fare le consegne di tutti i magazzini. Grazie per la visualizzazione, chi vede il video, Joker Game chiude. Ciao a tutti.